Un saluto a tutti, ben ritrovati come state, attimi di paura per il Milan, nel ritiro dalla Francia si è fermato per una botta al piede Olivier Giroud, il giocatore è rimasto un po' a terra, poi si è rialzato, Cure fortunatamente non ha nulla, però insomma dopo la paura di ieri per quanto riguarda Tonali, anche oggi degli attimi di non tranquillità, fortunatamente il giocatore sta bene, tra l'altro dovrebbe giocare anche la prima da titolare con la Francia perché in questo momento non sta bene invece Benzema sta recuperando da un problema. Vi invito a lasciare un like, a iscrivervi qui mi raccomando numerosi, mentre c'è una bella notizia perché ha fatto doppietta nella Serbia Under-19 Lazetic, un gol su calcio di rigore, uno su azione, quindi Lazetic sta facendo forse lo step importante, sta crescendo. Nelle ultime partite ha in pratica sempre segnato anche più di un gol, oggi una doppietta con i suoi pari età e sembra insomma essere andato avanti per un percorso sul quale il Milan punta molto, tra l'altro c'è un approccio di qualche squadra di Serie B tra cui anche la Regina, ma il Milan vorrebbe confermarlo così che lui poi facendo un altro anno possa essere iscritto alle liste italiane, le liste di Vivaio Milan un domani, cioè giocatori di formazione rosso-nera, cosa che sappiamo è molto importante per la compilazione delle liste. Dunque paura rientrata per Giroud e soddisfazione è una bella notizia, la doppietta di Lazetic. Questo è l'aggiornamento ragazzi, vi invito come sempre a iscrivervi qui se non lo avete ancora fatto su Logo L, qui video flash un paio di minutini, lasciate un bel like e commentate numerosissimi qui sotto. Vi mando un abbraccio, vi do di nuovo una buona serata e se vi va di partecipare al concorso scaricate gratuitamente l'app di numero 10 dal link che c'è qui sotto, in paglio la maglia di un giocatore che volete voi, della squadra che volete voi, in questo caso il Milan. Basta iscrivere l'app dal link qui sotto, scaricarla, tornare e commentare scrivendo il vostro nome. Un abbraccio!